La cronaca, altro muro colpo inferto dalla DD Alclan Piromalli, dopo i 33 fermi eseguiti nel primo troncone di indagine, oggi la seconda tranche che ha riguardato 12 affiliati alla cosca di Gioia Tauro, sequestrato anche il consorzio Copan di Varapodio, che comprende 40 aziende e cooperative agricole operanti nella Piane, in Sicilia e nel Lazio. I Piromalli, secondo gli investigatori, si sarebbero infiltrati nel tessuto economico locale, con particolare riferimento al settore agroalimentare, contando sulla complicità di imprenditori collusi. Come un puzzle, gli inquirenti della DDA Regina hanno incrastrato altre importanti caselle nella geografia andranghetistica della Piana di Gioia Tauro e in particolare nella sfera d'azione della cosca Piromalli. All'alba sono scattati 12 arresti e il sequestro preventivo del consorzio Copan, di cui fanno parte ben 40 tra soci e cooperative ortofrutticole, con sede a Varapodio, operanti in Calabria, Sicilia e Basso Lazio, con un fatturato da 20 milioni di euro all'anno, e la società olearia dei fratelli Gioacchino e Domenico Careri di San Ferdinando, finiti in manette. L'operazione, denominata Provvidenza 2, segue a quella scattata il 26 gennaio scorso con 33 fermi, nonché le operazioni di cumbertazione di un mese fa, Sansone e Mamma Santissima nello scorso anno. Tutte con al centro la potente e storica cosca dei Piromalli, scandagliata nelle sue attività di narcotraffico, infiltrazione degli appalti pubblici, riciclaggio e investimenti nel settore turistico alberghiero, nonché condizionamento e controllo delle attività agroalimentari e di export come in questo caso. Tra le misure cautelari spiccano quelle nei confronti di Giuseppe Piromalli, detto Facciazza, 72 anni, attualmente detenuto, ed il fratello Antonio, Ucatanisi, 78 anni, che sebbene più defilato di fatto, era la figura carismatica, quello che mediava all'interno e con le altre consorterie, come quella dei Mollè, un tempo alleata. Giuseppe Piromalli, sebbene recluso, secondo gli inquirenti, continuava a gestire, mediante il figlio Antonio, arrestato lo scorso gennaio. Nell'ordinanza odierna sono ricostruiti tutti i passaggi dell'utilizzo del consorzio ottofurticolo Copam, le cui imprese dovevano rifornire grandi aziende italiane, ma anche estere, romene e americane, secondo le disposizioni, prezzi e modalità imposte dai Piromalli, mediante un loro presunto affiliato, Rocco Scarpari, dipendente ma vero dominus della cooperativa. La Copam veniva utilizzata anche per l'esportazione di olio d'oliva, in particolare quello prodotto dai fratelli Careri, negli Stati Uniti, dove c'era un loro referente, Rosario Vizzari, anticipando le spese e pagando due centesimi su ogni vendita. I Piromalli volevano addirittura spostare la sede del consorzio all'interno del porto di Gioia Tauro per abbattere i costi e facilitare le esportazioni. Tra gli arrestati anche Nicola Comerci, ritenuto testa di legno della cosca nel settore turistico alberghiero, una grande holding dranghetistica a cui la Didia Regina ha inferto l'ennesimo colpo.